Gli anni sessanta, i miei ricordi felici di bambina quando andavamo all'alimentari. Incontravamo sorrisi, profumi deliziosi, le cose più buone perché scelte con cura. E oggi, come ieri, gli stessi prodotti genuini, la stessa gentilezza, i prezzi sempre migliori. Oggi, come ieri, lo stesso sorriso. Il tempo passa, la passione resta. Supermercati Ali. Migliora la vita. Grazie.